registrazione attaccata beh allora sono le ore 9 e 5 procediamo all'appello e oggi dieci agosto verbale 148 presidente russo presente consigliere giroffi assente consigliere caronia assente consigliere ferrara presente buongiorno stavate chiamando consigliere tranquilla assente consigliere meluso assente consigliere tranquillo assente due presenti va bene visto che non abbiamo un numero legale la seduta dell'impianto a di un'ora Fabrizio come sei? Fabri? Fabrizio?